Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei The North Face Summit Series Kayesh lo scarpone più tecnico della serie Summit Series di The North Face di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito dalla suola di questi Kayesh qui troviamo una suola Vibram con tecnologia Light Base troviamo una suola molto particolare perché ha dei tasselli molto grossi ma anche molto sottili questo cosa vuol dire in sostanza? vuol dire che ha una suola che ha un ottimo grip su roccia veramente quando andiamo su roccia a lavorare di punta con la climbing zone quando dobbiamo andare anche su roccia bagnata tiene veramente bene ma avendo un tassello così basso tutto quello che è l'aderenza su fango, foglie e comunque terreno morbido è veramente pessima su fango si scivola via che è una meraviglia ma infatti poi vedremo che questo scarpone è sicuramente più adatto a chi fa delle vie di arrampicata alpinistiche non a chi magari fa dei sentieri più escursionistici a livello di suola come dicevamo una Vibram quindi anche dall'ottima durata perché io l'ho utilizzato per un bel po' di escursioni questo Kayesh in questo inverno e devo dire che è ancora in ottime condizioni un comparto suola poi anche risuolabile nel momento in cui andando a utilizzare tanto lo scarpone dovremmo finire il compound Vibram passando a parlare invece dell'intersuola qui troviamo un'intersuola estremamente rigido questo scarpone secondo me The North Face l'aveva progettato come uno scarpone con un'intersuola semi rigido ma gli è uscito estremamente rigido cioè veramente non lo pieghiamo neanche con tutta la forza che abbiamo questo è un pro nel momento in cui andiamo ad utilizzare un rampone perché in quel caso veramente ottimo avendo un'intersuola così rigido con rampone si riesce a lavorare benissimo un pochino meno bene quando andiamo magari a lavorare su roccia perché se fosse stato un pochino più semi rigido ecco che sarebbero riusciti a sfruttare sicuramente meglio anche tutta la parte di climbing zone per quanto riguarda invece l'ammortizzazione beh è un'intersuola comunque abbastanza sottile in cui l'ammortizzazione non è sicuramente il suo punto di forza non è uno scarpone con cui farci tantissime ore non è uno scarpone con cui fare dei lunghi avvicinamenti piuttosto uno scarpone magari con cui fare tante ore in verticale rispetto che in orizzontale arrivando a parlare di tutta la parte superiore della Tomai iniziamo dal puntale qui naturalmente troviamo un puntale estremamente rigido un puntale che se prendiamo a calcio una roccia non sentiremo nessun dolore la parte superiore del puntale poi è fatta anche lei in gomma questo ottimo perché va a proteggere molto bene sia il nostro piede sia la Tomai ad eventuali strappi quindi questo particolare di avere questi centimetri in più di gomma li ho particolarmente apprezzati ed ho apprezzato anche tutta la Tomai che è in materiale spectra un materiale estremamente robusto antitaglio quindi anche se ci dovessimo ramponare da soli non c'è il problema che andiamo a strappare lo scarpone una Tomai che però fa sì che lo scarpone non sia tanto termico secondo me questo è uno scarpone ideale per le mezze stagioni o per l'inverno quando fa particolarmente caldo o per l'estivo quando magari andiamo a temperature fredde a fare qualche 4000 non è uno scarpone sicuramente da utilizzare nel periodo invernale perché l'imbottitura all'interno è veramente scarsa poi tutta la parte di ghetta questa è estremamente morbida è davvero praticamente si può piegare completamente perché è destrutturata veramente morbida ed è anche lei in materiale spectra quindi veramente molto resistente la cerniera di cui è fatto lo scarpone direi molto bene non ho avuto nessun tipo di problema non mi si è rotta e questo Kayesh ha anche la membrana Future Light quindi bene per quanto riguarda l'impermeabilità super bene per la traspirabilità perché come sappiamo il Future Light è una membrana estremamente traspirante parlando invece del tallone come vi dicevo prima abbiamo l'inserto in TPU per poter mettere un rampone semiautomatico il tallone poi è abbastanza rigido soprattutto nella parte bassa è veramente rigido ma essendo comunque all'interno una scarpetta bassa devo dire che non si hanno tanti problemi soprattutto poi nella parte superiore tende a destrutturarsi e quindi è un tallone abbastanza morbido nella parte superiore quella che invece non mi è piaciuta tantissimo è l'allacciatura un'allacciatura fatta con un sistema BOA e devo dire che da questo punto di vista nessun problema si stringe bene l'allacciatura è precisa quindi dal punto di vista del BOA fatto bene il problema è dove vi è stato messo il BOA perché è stato messo nella parte interna della tomaia della ghetta e anche nella parte tendenzialmente del collo interno del piede questo vuol dire che quando andiamo ad allacciarlo ecco non è proprio semplicissimo innanzitutto essendo dalla parte opposta rispetto a dove arriviamo col braccio bisogna un po' contorsersi il polso per riuscire ad allacciarlo precisamente e poi il fatto che sia messo nella parte interna della ghetta non mi piace perché se noi dobbiamo andare a stringere lo scarpone dobbiamo tirarci sul pantalone aprire la ghetta stringere il BOA richiudere la ghetta rimetterci il pantalone processo troppo lungo soprattutto nel momento in cui magari siamo in parete quindi devo dire che se il BOA fosse stato messo almeno nella parte esterna sarebbe andato sicuramente meglio per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede devo dire un avampiede abbastanza stretto io ho preso il mio classico numero 47 che prendo sempre ma diciamo che un mezzo numero in più non mi sarebbe dispiaciuto per cui davvero un avampiede bello stretto ma questo fa sì che anche lo scarpone sia molto preciso quindi andate a provarlo naturalmente se volete acquistarlo arriviamo dunque a capire dove è meglio utilizzare questo Summit Series Kayesh è uno scarpone pensato soprattutto per chi fa delle vie di roccia delle vie alpinistiche per chi fa delle vie di misto anche e via dicendo non è sicuramente uno scarpone adatto a chi fa trekking a chi fa escursionismo ma direi nemmeno tanto a chi fa dell'alpinismo classico è uno scarpone davvero molto tecnico ideale per persone comunque molto esperte quindi se siete degli escursionisti degli alpinisti alle prime armi non ve lo consiglio è uno scarpone davvero ideale per andare a fare le vie più tecniche che abbiamo qua sulle alpi detto ciò arriviamo alle conclusioni perché parliamo di un scarpone che dal prezzo ufficiale di The North Face parliamo di 500 euro online ormai lo si trova a 300 euro ve lo consiglio Nii Nii perché come avete visto alcune cose come il boa non mi sono piaciute però allo stesso modo comunque è uno scarpone che per i suoi 300 euro è forse uno dei più economici che si possono trovare di questo taglio quindi con una laghetta o una scarpetta bassa ideale per fare vie di misto e via dicendo quindi diciamo che a un prezzo di 300 euro può anche starci pur sapendo che comunque andremo incontro a dei difetti che come vi dicevo per il boa non sono proprio trascurabili e detto ciao ragazzi nella speranza sia stato esauramente esastivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao